Immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginano il rischio di inondazioni e rallentano l'insorgere della siccità. Sono le zone umide, ecosistemi sensibili e fragili che vanno tutelate dall'inquinamento e dagli effetti del cambiamento climatico. Proprio per questo, nel 1971, con la Convenzione di Ramsar, è stata istituita la giornata mondiale delle zone umide, il 2 febbraio, per accendere i riflettori sull'importanza che questi luoghi rivestono per il pianeta. Anche a Trani esiste una zona umida a Boccadoro, meta di uccelli migratori, ricco di biodiversità. Qui gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e dei Sanctis hanno piantato cinque alberi, riscoprendo l'importanza di questo luogo per l'intera comunità. Lega Ambiente si impegna sulla tutela delle zone umide in tutta Italia, ma in particolare qui a Trani sono dagli anni 90 che Lega Ambiente è impegnata qui sul territorio, in rete con tante altre associazioni ambientaliste per la tutela dell'area di Boccadoro e dell'area di Arishan. Stiamo cercando di ricostituire quello che era l'antico Bosco di Tamerici, c'è un'importante opera di tutela per tutelare quelli che sono gli uccelli, il corridoio ecologico, i pesci qui presenti a Boccadoro come area unica in questo genere, in questi luoghi. Si tratta anche in questo caso di un percorso che consente ai ragazzi di conoscere il territorio in cui vivono e quindi consente loro di acquisire competenze riguardo il modo di essere cittadini, una cittadinanza attiva e quindi la capacità di essere anche promotori di una cultura del rispetto e della tutela dell'ambiente in cui vivono.